L'amministrazione comunale di Messina punta la riapertura del parco Aldomoro. Nel fine settimana il sindaco Cateno De Luca, accompagnato fra gli altri dal presidente di Messina Servizi Giuseppe Lombardo e dall'assessore Carlotta Previti e Daphne Musolino, ha fatto tappa all'interno del polmone verde cittadino situato lungo la circonvallazione, un'area verde di circa 14 mila metri quadrati che potrebbe presto essere riconsegnata alla cittadinanza dopo oltre 70 anni di inutilizzo o utilizzo parziale. Non è certo che con una ripresa e una diretta social sullo sfondo dei trattorini o delle macchine per togliere l'erbacce che puoi risolvere il problema del parco Aldomoro, dove peraltro vorrei ricordare al sindaco a parte che c'è la quarta municipalità che ci ha studiato e ci ha ragionato e ha proposto delle soluzioni che chiaramente non sono state neanche prese in considerazione, ma c'è un fortino spagnolo del 600 denominato Batteria Spagnolo, un fortino molto importante che ha fatto anche la storia della città durante la rivolta antispagnola che è parzialmente interrato, che potrebbe essere recuperato. Quindi non è certo togliendo un po' di infestanti o facendo vedere sullo sfondo un trattorino che si aggira per questo parco che si risolvono i problemi. Fra l'altro va messo in sicurezza, significa che bisogna realizzare una progettualità di parecchie centinaia di migliaia di euro che prevede la recinzione di tutta l'area che chiaramente è a rischio. Noi continuiamo purtroppo ad apprendere le iniziative di questa amministrazione soltanto dai social. Un problema che lei vuole sollevare è questo rapporto con le municipalità, questo mancato coinvolgimento dei quartieri che poi invece dovrebbero essere sul territorio il punto di riferimento dell'amministrazione, la presenza di Palazzo Zanca. Nessun rapporto, questa amministrazione non ha assolutamente nessun rapporto, ma lo vediamo nei risultati. Le partecipate sono delle vere e proprie stazioni appaltanti. Noi non riusciamo a incidere su quelle che sono l'operatività delle partecipate che gestiscono dei servizi pubblici essenziali a un costo sicuramente doppio rispetto a come potremmo fare in casa, ma non solo. Non riusciamo a dare le risposte ai cittadini perché le municipalità le ha imbavagliate per ovvi motivi. Fra l'altro vorrei anche dire un'altra cosa. Il regolamento sul decentramento che è stato dotato in Consiglio Comunale è un regolamento che viene sistematicamente disatteso all'amministrazione. L'articolo 18,3 recita che devono dare informativa, conto e ragione, discussione, si deve concertare con le municipalità tutto quello che avviene nel loro territorio. Questo non avviene.